Ciao a tutti, giovedì 25 ottobre come tutti i giovedì come tutti i giovedì dentro secchi nel WOD senza riscaldamento, senza nient'altro perché come tutti i giovedì sarà un massacro i WOD di oggi si chiamano Fortitude Mid Chelsea cioè la cara Chelsea incontra la forza e infatti sono 30 minuti Emom nei quali alterneremo i seguenti lavori 15 calorie raw, 15 burpees e un roundy Cindy i roundy Cindy sono come vi ricordo 5 pull up, 10 push up e 15 air squat come al solito pesi e carichi sono qua sul lato qui si stanno già riscaldando ci vediamo domani per l'ultima puntata di questa settimana